Nelle prime ore di mercoledì 17 luglio è iniziato lo sgombro della palazzina al Civicotto di Via Torino. Sul posto erano presenti la polizia locale, polizia di Stato, guardie di finanza, portrezione civile, croce rossa, oltre ai mediatori ed interpreti. A supervisionare le operazioni c'erano anche il sindaco Andrea Cassani, l'assessore della sicurezza Germano Dalligna, il comandante Orillo Giannini e il commissario capo Luigi Marsico. Per tutta la mattina gli ormai ex inquilini hanno svuotato le proprie abitazioni caricando in auto o furgoncini, valigie, sacchi e scatoloni con i loro averi. Ringrazio le forze dell'ordine per l'ottimo lavoro svolto, afferma l'assessore Dalligna. C'è stato anche un momento di confronto tra il sindaco Cassani e i referenti di dunque familiari, che poi sono stati accompagnati proprio dal primo cittadino agli sportelli dei servizi sociali per verificare le singole situazioni e documentazioni presentate. Ci sono già le aziende, i fabbri in azione per ammurare, in qualche modo intercludere l'accesso sia alle parti comuni che ai singoli alloggi. Dopodiché i curatori sicuramente procederanno alla rimessa in prestino del sistema fognario e dei lavori necessari a garantire la sicurezza in modo che speriamo che tra poco tempo, tra qualche mese, possa tornare a rivivere questo palazzo.